buongiorno a tutti oggi è martedì mattina sono ancora in fase catalessi e praticamente devo andare a lavorare assicché sostanzialmente mi devo ancora preparare mi faccio una bella doccia e poi si va partiamo con questa giornata lunghissima sono uscita da lavoro praticamente tardissimo sono arrivata a casa e mi sono messa subito a mangiare perché era già pronto e niente ora sto aspettando il mio ragazzo che mi passa a prendere e andiamo a fare una girata a mangiare un gelato molto probabilmente tornare a casa sempre che sono parecchio stanca poi domattina di nuovo a lavoro quindi è così la routine diciamo di tutta la settimana è sempre lavoro fino alle sette dalle nove fino alle sette poi niente mangio e poi di solito vado a fare una girata così ma proprio una passeggiata oppure vado direttamente a letto mi guardo un film insomma guardo qualcosa ora cerchiamo un attimino di fare qualcosa di più interessante perché mi sto accorgendo che ultimamente praticamente non sto facendo nient'altro che lavorare assicché mi mi stresso molto e niente poi man mano che va va più in là mi ne vado a risentire quindi non vorrei fare anche qualcos'altro lì fuori dal lavoro tutto sta a riuscirci ad esempio mi piacerebbe andare a iscrivermi in piscina dato che non so ancora nuotare io e sì che vorrei imparare e poi vorrei fare tipo dei corsi di acqua gym qualcosa del genere niente ora spero che mi venga a prendere se non vuol dire che è a ritardo dopo e niente a più tardi bene ragazzi abbiamo preso il gelato allora io l'ho preso semifreddo pistacchio e cookies e te invece? nocciola pistacchio e yogurt buonissimo e niente ora lo mangio se non mi si scioglie allora ecco lo sapevo la smetti mi sta lanciando l'acqua ragazzi scrivete qualcosa è stupido o smettila ok allora abbiamo finito di mangiare il gelato lui mi sta facendo le facce da scemo guarda che poi non ti taglio davanti per farmi ridere e niente questo essere voleva per forza vedere la partita a tutti i corsi e niente sì che stasera mi sta snobbando a posta no smettila perchè sennò devo mettere bip smettila e ora andiamo a fare una passeggiata per colpa sua smettila si vede che ormai è finita l'estate perchè non c'è praticamente nessuno tutto d'esatto e strano ma vero si trova a parcheggio quindi praticamente non c'è più niente però va bene una passeggiata dopo il gelato ci sta sempre smaltiamo vero? è troppo buono il mio gelato guardare la faccia triste poverino di uno che non riesce a vedere la partita perchè la ragazza ce l'ha impedita e poi ho un ca... ho uno stupidissimo telefono è perchè spieghiamolo il suo praticamente ha avuto si è rotto da solo una brutta disavventura ovvero niente il touchscreen non gli funzionava più sicché praticamente quasi due mesi che l'assistenza e non gli hanno ancora dato si è smatto la prossima settimana vado a prendere quello nuovo ecco no impediamo questo quindi facciamo un annuncio carissima team ridiamo il telefono a questo ragazzo se no la ragazza è gelosa e lo vuole anche lei vero? poverina ma come sei scemo perchè si vergogna lui fa così dice qualche battutina ogni tanto perchè si vergogna tanto grande e grosso ma in realtà è la prima volta che mi fa che facciamo un video insieme perchè non veramente non serve più urli di sento non serve urlare culo perché mi devi prendere in giro vabbè comunque è la prima volta che si fa un video insieme perchè di solito non mi ci mette neanche no non è che non ci mette ne parla soltanto no non è che non ci mette sarà che ogni volta che ho intenzione di riprendere aspetta un po' che se è troppo alto non ce la faccio ecco ehm praticamente ogni volta che cerco di riprendere qualche insomma qualcosa nel vlog ok lui inizia con le solite facce stupide il vlog oh dio aspetta ecco inizia a fare queste facce stupide e mi imbarazza da morire cioè nonostante oh dio ho sta frangia che continua a fare così sembra stai ferma con quella frangia lì e sì che niente cosa stavo dicendo ah che non voglio mai riprenderlo nei video perchè fa le facce stupide sì che mi dirumpeva un po' ci ho fatto un'abitudine com'è no smettila così no così non vale però no cosa dicevo mai è carino dai questo taglio smettila ora sta tutta la sera così smettila vedi è questo il problema è che lui lo fa normalmente per strada quindi non è che lo fa solo per i video soprattutto quando sei fieri perchè si cammina meglio se sei matto inizia a smattare inizia a fare tipo così ecco a fare questi versi qua la gente si prende paura e logicamente scappa lontano da noi però è una fortuna ma vorrai è una fortuna però crea spazio crea questi barchi in mezzo alla gente noi possiamo passare letteralmente potevo portare a fare una passeggiata ai cani no no la macchina mia non ci montano i cani no no perchè c'è la macchina nuova attenzione attenzione passiamo di la no due vetrine due cose insomma qualcosa non c'è veramente nessuno abbiamo trovato un amico ciao ecco Dodo ci va a fare amicizie non lo tocco perchè non si sa mai come potrebbe reagire non il gatto ma lei si io perchè si perchè di solito non vuoi reagire ma che begli occhioni che sono che bella amicizia vabbè ti sta circunnavigando che ciao che una maschina o una femmina un maschina una femmina castrato quello di io ah si ah si dici secondo me mi pare più una femmina ciao vincinito diiii vado i gatti è molto felice perciò perchè lui ama i gatti adora proprio è l'uomo l'uomo gatto l'uomo gatto chi era? quello di insarabanda ora se lo porta a casa c'è il nome stella 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 è un maschio è una femmina miccia basta ci sta magari si chiama sissi come la mia ma sono pochianica ora suona un allarme ragazzi stiamo tornando a casa cioè sto tornando a casa e niente finora qua questo video e perchè sono una madonna quindi da me e da due è tutto al prossimo vlog o video qualsiasi cosa ciao